pace bene cari fratelli e sorelle bentrovati siamo alla conclusione del discorso eucaristico di gesù e gli si è presentato come pane vivo disceso dal cielo e ha rivelato che questo pane che dà la vita eterna è la sua carne e il suo sangue ma molti discepoli mormorano dicendo questa parola è dura chi può ascoltarla cioè come si può comprendere e alla fine molti se ne andarono qualcuno potrebbe aspettarsi un gesù mieloso che supplica gli altri discepoli o che magari ritratta o che abbassa il tiro o che si mette a spiegare minuziosamente ogni cosa e invece no dopo aver invitato i suoi interlocutori ad aprire il cuore interpella i dodici chiedendo loro volete andarvene anche voi questa domanda è come un pungolo piantato nella terra del cuore che chiede una decisione volete andarvene o volete seguirmi ecco a gesù non interessano i numeri non desidera folle amorfe ma persone che liberamente lo accolgono e lo seguono miei cari abbiamo l'occasione di toccare un punto delicato decisivo per la nostra vita cioè scegliere se ci pensiamo la vita stessa si configura come una chiamata anzi come una serie innumerevoli di chiamate al bene al bello al vero ogni giorno abbiamo una infinità di occasioni per discernere e decidere vi sono delle scelte inconsapevoli automatiche altre di piccolo conto altre decisive e ogni decidere comporta un recidere cioè scegliere qualcosa implica escludere qualcos'altro ad esempio se scelgo di pregare rinuncerò alla tv se scelgo di fare jogging rinuncerò a stare con i piedi sotto la tavola se decido di andare a trovare una persona rinuncerò a fare qualcos'altro per me potremmo addirittura dire che si può cogliere qualcosa di profondo di una persona proprio in base alle sue scelte sono esse che generalmente ci dicono qualcosa sull'orientamento di fondo di una persona su ciò che ritiene importante su ciò che le piace o ciò a cui è legata qual è il problema c'è chi purtroppo per una serie di motivi preferisce evitare la sfida bellissima che implica lo scegliere mettendo in atto strategie abbastanza funeste facciamo alcuni esempi vi è chi tende a procrastinare sempre vive secondo lo stile del rimando il motto è poi vediamo chi rimanda delle scelte che andrebbero prese di solito lo fa pensando di evitare la fatica che comporta il decidere e le azioni annesse in realtà si sovraccarica nel tempo di un peso che va fiaccando ancora di più le forze ottenendo un effetto ben peggiore oppure vi sono quelli che lasciano che siano gli altri a scegliere per loro il motto è decidi tu se questa modalità potrebbe anche profumare di gentile disponibilità in certi casi estremamente ripetuti e in alcune coppie suscita contese devastanti della serie ma per una volta potresti prendere in mano tu la situazione potresti decidere tu per non pensare a quanti giovani divenuti adulti vivono una profonda frustrazione per non aver scelto ciò a cui si sentivano chiamati ma ciò che i genitori o altri hanno scelto per loro o che comunque si aspettavano da loro altri ancora davanti alla fatica della scelta e alla chiamata la responsabilità preferiscono l'evasione la distrazione il divertimento e così si assiste al triste spettacolo di alcuni adulti rimasti adolescenti detti adultescenti che a 60 anni gozzovigliano chiedendosi cosa faranno da grandi come se fossero eterni Peter Pan e come cari tutto ciò detto in semplicità e con ironia vuole aiutarci a capire quanto sia importante il tema del decidere dello scegliere dell'affrontare la bellissima sfida della libertà Don Fabio Rosini ha fatto notare che un saggio ebreo Eskel afferma che la differenza tra un uomo libero e uno schiavo è che lo schiavo è certo mentre il libero è incerto spesso il nostro cuore sceglie la schiavitù ci leghiamo determinate cose rimaniamo incastrati nell'alveo del già noto o del si è sempre fatto così proprio per evitare di affrontare la scelta di affrontare l'indeterminatezza la novità preferiamo la schiavitù alla libertà ma restare attaccati alla sicurezza delle nostre compensazioni dei nostri schemi già acquisiti e rodati e da infantili affrontare il deserto della libertà e da adulti non a caso i bravi padri o i saggi educatori ed educatrici non sono quelli che si sostituiscono ai giovani ma sono coloro che li aiutano a crescere che li mettono in condizione di decidere di essere responsabili della loro vita in fondo qui sta la nostra identità ciò che siamo e ciò che diventeremo in quei sì detti o rifiutati approfondendo un po miei cari la domanda di gesù ci ricorda che c'è una parte nella relazione con dio che spetta a noi a te è il tuo sì nessuno lo può dire per te nemmeno i santi non a caso padre pio diceva che nessun santo può renderti santo quanto puoi tu sottinteso con le tue scelte i santi intercedono ma non possono sostituirsi a noi nemmeno dio può far nulla senza la nostra cooperazione per lui la nostra libertà è sacra perciò sant'agostino diceva colui che ti ha creato senza di te non può salvarti senza di te una bellissima immagine ritrae gesù che bussa alla porta ma la maniglia di questa porta è soltanto all'interno come a dire che il signore bussa ci interpella ci chiama ma la porta del cuore soltanto noi possiamo aprirla dall'interno la chiesa miei cari non è un'area di parcheggio per svogliati esistenziali in cerca di pratiche salva coscienza o che passano il loro tempo con la testa tra le nuvole o che si aspettano magiche risoluzioni dei loro problemi no la chiesa è la famiglia dei figli di dio che liberamente lo amano e lo seguono dio non vuole schiavi ma figli siamo chiamati allora a ricollocare il nostro cuore di fronte a gesù e lasciarci personalmente interpellare da lui volete andarvene anche voi che faccio lo seguo o no mi interessa andargli dietro oppure no magari in questo momento difficile in cui non tutto è chiaro in cui soffro terribilmente che faccio me ne vado o mi fido davanti alle cose che non vanno anche nella chiesa stessa che faccio me ne vado punto soltanto il dito o mi metto in gioco mi sbraccio le maniche e cerco di fare quel che dio vuole da me il bene che posso ecco miei cari lasciamoci interpellare personalmente da gesù e ciascuno di noi oggi dia la sua risposta tornando al vangelo pietro a nome di tutto il gruppo risponde signore da chi andremo tu hai parole di vita eterna e noi abbiamo creduto e conosciuto che tu sei il santo di dio e l'affermazione di chi anche se non ha compreso tutto ha intuito la bellezza di cristo l'eternità che consegna la pienezza che propone pietro aderisce a cristo e si fida anche se non ha capito tutto ed è proprio qui che avviene quella che potremmo chiamare la selezione naturale nella sequela di gesù lascia chi pretende di avere tutto sotto controllo o che tutto vada secondo i suoi piani segue chi ha il cuore aperto alla grazia chi si fida chi si affida intuendo che proprio in cristo vi è la vita pietro in fondo è come se dicesse ora che ti ho incontrato come potrei lasciarti non ti scelgo perché devo non ti seguo perché non ho trovato di meglio non ti vengo dietro per far contenti mamma o papà o perché in paese si usa così signore mio gesù ti scelgo perché tu sei la cosa più bella solo tu hai parole di vita eterna che profumano di vita vera che comunicano vita piena tu sei il dono più grande tu sei la presenza più bella possiamo allora capire perché sant'agostino arrivò a dire signore toglimi tutto ma non la fede perché tu sei il mio tutto e all'infuori di te c'è soltanto il nulla che il buon dio vi benedica pace e bene a tutti